Terra Amara, Anticipazioni Che riprendono le puntate, che andranno in onda dal 25 al 26 marzo. Zuleya diventa la nuova padrona della villa. Uncar vuole sbarazzarsi di sua nuora. Beyice avverte Mujgan, Zuleya potrebbe essere un problema per il tuo matrimonio. Garfur compra dei polli avariati da Atip e diversi braccianti muoiono. Dopo l'incontro doloroso con gli Ilmaz, Zuleya decide di diventare la nuova signora della villa rubando il ruolo di padrona della matriarca Uncar. La protagonista dimostrerà la sua nuova posizione quando insieme a Demir parteciperà a una cena al club con l'elite della zona invitati. Come ospite d'onore dal governatore. Le famiglie più influenti parteciperanno alla cena tra loro. Saranno presenti anche Fekeli e Beyice, Ilmaz e sua moglie. La zia della dottoressa cerca in tutti i modi di riavvicinarsi a Fekeli. Nonostante quest'ultimo avrà occhi solo per Uncar, anche lei presente all'evento. Quando Ali vede la matriarca arrivare, si alza per parlare con lei. Beyice non esita a interrompe la loro conversazione. Durante la cena, Demir e Zuleya si ritrovano faccia a faccia con gli Ilmaz e Mujgan. In questo incontro ci sarà molta tensione fra loro. Nel corso della serata, gli Ilmaz e Zuleya si guarderanno spesso, ma i loro occhi riflettono tristezza più che amore. Akkaia sembrerà particolarmente abbattuto, dopo la notizia che presto diventeranno genitori e la decisione di non scappare con sua amata. Più tardi Zuleya si congratula con il dottore per la sua gravidanza e nota una collana che le apparteneva al collo della donna. Quest'ultima le dice che il gioiello è un regalo di Ilmaz per il loro futuro bambino. Zuleya non sospetta che in realtà si tratti di un malinteso. E che Mujgan ha preso la collana pensando che fosse per lei senza che Akkaia lo sapesse. Sabattin e il procuratore arrivano accompagnati, Giulide si congratula con il medico per la sua promozione in ospedale. C'è un legame speciale tra Sabattin e la nuova arrivata, che non passerà inosservato a nessuno. Al tavolo, Beyce nota Zuleya da lontano e quando capisce che lei è l'ex di Ilmaz non esita ad avvertire sua nipote. Beyce sarà colpita dalla bellezza della giovane donna, infatti comincia a intromettersi in una conversazione che non la riguarda. Avvertirà a Mujgan che Zuleya potrebbe diventare una minaccia per il loro matrimonio. Ma Mujgan spiega a sua zia che Zuleya è sposata con due figli da Demir e che non ha intenzione di fare nulla per mettere a rischio la sua famiglia. Nel frattempo, Zunier nelle baracche conosce una bambina che è molto triste, poiché sua madre è malata. Il capo squadra decide di prendersi cura della piccola in modo che sua madre possa riposarsi. La bimba di cinque anni conquista il cuore della moglie di Garthour. Zunier la porta nella propria casa e la fa il bagnetto e le dà da mangiare accanto al marito. Non potendo avere figli a causa della propria sterilità, quella notte la domestica si sentirà una vera madre. Nel club la festa si conclude quando arriva un ospite inaspettato. Si tratta di Shernim. La sua presenza genera ulteriori situazioni imbarazzanti soprattutto quando Demir la vede arrivare. Il giorno successivo, Appit convoca Garthour nel suo ufficio per fargli una proposta, gli propone di scalare una parte di denaro dal suo debito. Il marito di Zunier dovrà acquistare, da lui una grossa quantità di polli di cui la famiglia Yaman hanno bisogno, per il pranzo che stanno organizzando per la circoncisione dei bambini. Garthour non esita ad accettare la sua proposta senza sapere che si tratta di una trappola mortale. Nel frattempo, Demir chiede a sua madre di spiegare le ragioni per cui ha venduto la terra di suo padre mentre lui era in prigione. La matriarca non risponde ma Zuleya. Interrompe la loro conversazione e rivela al suo marito che la terra è stata venduta a Ficheli. Demir diventerà furioso con sua madre. Zuleya con questa mossa ha dichiarato guerra a Unkar, per adesso sta vincendo, ma la giovane non sa che, una volta che il bambino sarà nato, Unkar ha intenzione di sbarazzarsi di lei per sempre. Più tardi arriva il giorno, della circoncisione dei bambini del villaggio, Sanye prepara con cura il cibo e gli ospiti iniziano a gustare le diverse prelibatezze. Tuttavia, improvvisamente tutti cominciano a sentirsi male. Vertigini, mal di stomaco, svenimenti e presenza di schiuma in bocca sono i sintomi che compaiono in tutti i presenti. Uno dei invitati sentenzia che sono stati avvelenati. Demir risponde disperato. Siamo rovinati. È consapevole che l'intero paese li accuserà di aver intossicato i propri lavoratori e la sua reputazione è ormai distrutta. Nessuno sospetta che sia stato il perfido Atip a vendere polli in cattive condizioni a Garfour. L'ospedale di Adana sarà sopraffatto dall'arrivo di pazienti della festa della circoncisione, tra cui Gulten e la moglie di Atip. La famiglia Yaman hanno dovuto allestire un ospedale da campo per aiutare i dipendenti che si sono ammalati. Le anticipazioni terminano qui. Per non perdere altri video, iscriviti al canale.